la prima liga neutra che un sero umano usò, per lo meno non sorvecci, quando parlando di gelato era, anticamente non c'era molto da quelli prodotti che oggi diciamo di produttos tecnologicos che potesse una liga neutra, ossia una farina di alfarroba, guar, tara, shantana, carbossime di cellulosa che poi sono misturata in varie forme e in diverse quantità la gel è una soluzione di acqua, gordura e proteine e dentro del sorvecci si fa un buon lavoro di emulsificante, come emulsificante, come stabilizzante, come facendo tutte le proteine e anticamente si usava praticamente in tutto il sorvecci, quasi tutto il sorvecci si usava non si usava nella frutta, antichamente si usava la clara di ovo nella frutta, sempre per la stessa motivazione che le proteine contenute dentro della clara di ovo davano una struttura più cremosa, più stabile. Digiamo che, antichamente, la funzione della gelata di ovo era questa, era, diciamo, la liga neutra daquela epoca. Ora, oggi in dia, io non vedo più necessità di usare questa gemma di ovo in tutto il sorvecci, a meno che io non busco il sapore della gemma di ovo. Ma nel Brasile, noi abbiamo già visto che il sapore della gemma di ovo non è ben... Ben assento. Sì, i clienti non gostano del sapore della gemma di ovo, quindi consiglio di evitare totalmente di usare la gemma di ovo, a meno che non stiamo facendo, ripeto, un sapore particolare, uno zabbaglione o quella che in Italia è chiamata di crema, che è un sorvecci di gemma di ovo aromatizzato con casca di limano, ma evitano di usare la gemma di ovo, specialmente nel Brasile, in Sidenei.